spettatore ignaro anch'io allora senti l'emf non lo prendo perché non funziona allora è corey corey young crocifisso assisterà al membro e senza sanità mentale se faccio la domanda se è giovane risponde affermativamente è perché young ecco mamma mia che bassi due battute proprio si spiegano le battute non fanno più ridere qui c'è anche il collegamento con quel vecchio quale la gag del sei giovane sei single mamma mia quella quella è proprio la storia è rimasta nella storia veramente uno non ho preso il coso per la testa vada vada a prenderlo qua è aperto ma perché mi porto la telecamera che sto qui e stavo guardando una cosa perché vabbè niente non posso fare niente adesso che non ho detto vado della lei sempre solo in piccetto io dico boh e che voleva fare uno screenshot che a cosa non lo so l'ho vista ferma e stavo stavo guardando o bs io lo dico ah ok vabbè ma non svegli ma lei mi chiede io svelo siamo in partita siamo in partita appunto ok questo qua secondo me è il deogen mamma mia ma io mi sono sta in bagno e sì l'ho sentito la foto l'ho sentito mamma mia secondo me questo è il deogen mi è compasso davanti alla faccia proprio scrivi sul libro vaffa l'uovo eh vaffa l'uovo uh di nuovo ciao questo qua è proprio arrabbiato allora adesso è in forma criptica prima era in forma umana la forma criptica ho capito foto da tre stelle wow fatta io fatta io ma come fatta io io l'ho fatta un metro nemmeno venti centimetri allora è quella prima vabbè io mi do possiamo eh voglio andare a no vabbè ma tanto non c'era come obiettivo il il microfono paranormale quindi niente aspettate mamma mia io penso che me la sono fatta addosso allora come stai messa tu guarda 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 questo è di sesto livello sì c'ha le corno questo qua è bello bello convinto sì mi piace mi piace il ragazzo ma come ma tu devi vedere quanto è brutto come devi andare a no l'ho visto l'ho visto è quello con la mannaia eh hai capito ha scelto la marca la nike per caso quando l'ha visto sì 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 se volete il baffo della nike non conosco non era la sgommata della nike infatti la sgommata poi da nike non il baffo e vabbè la famosa sgomma no vabbè la sgommata è una sgommata scusa il copyright anche quello eh sì è mio poi cioè ci ho fatto per un thumb io di una serie allora crocifisso me lo prendi il crocifisso perché non me lo doveva prendere no non ce l'avevo con lei lo tengo proprio così però io voglio anche prendere le pilloline perché prendo il sale anch'io eh beh oddio siamo ma questo qua non le prendo io sono sono sicura che questo mi sciotta prendo questo e prendo il sale la spirit box l'ho preso io allora prendo gli sparaflescetti ecco il libro ce l'abbiamo io prendo anche il dots quello lo scrauso può sempre servire ma non so usarlo io che ha tirato il pallone che ha tirato non io social a con me regalo dico o so i gemelli oh che c'è qui inquadra dove inquadra camera 2 camera 3 camera 4 right on the book ok ok e passi sul sale anche acceso un fornelletto ma regazza qua porca puzza affacciatissima ma se si muove non vale però oh 5 ok sapevo io non ho detto che era 5 ma quando l'ha detto mi scusi ma da mo l'ho detto e uni fa beh guardate come siamo organizzati cioè veramente impressionante la mente il braccio e guarda guarda eh sarà più bello anche quello oh ok dove sei ha chiuso ha chiuso ha chiuso presto presto no 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 ah no l'è? l'hai? l'hai? l'hai fatta passare guarda com' è in cazzoso ho detto che era io allo 5 è bello che mi sono presa anche le pasticche guarda sono 78 mamma mia mamma com'è io ho chiuso il cangello ah ma l'hai chiuso tu ma perché? pensavo che le avevate passate tutte lascio aperto c'è sempre la possibilità che qualcuno rimanga chiuso EMF allora ce l'abbiamo giusto? sì ma è bassa non ci abbiamo nient'altro oh che palle non è passato sul sale però potrebbe effettivamente essere un retto non ci sono sfere di luce perlomeno non sembrerebbe aspetta perché questa la voglio lasciare qua c'è quell'altra che sta più indietro di si la sta un pochino più indietro eccola là questa proviamo a puntarla verso qua dove stava prima ecco sfera di luce c'è? non l'ho vista ah sì sì ho fatto bene ok è perfetto ragù e obache già così ragù e obache va bene allora la spirit box non serve a niente perché non può essere dobbiamo vedere se è ultravioletto o puntatore dots però non si è spostato là perché vedi che le sfere stanno là eh allora mettiamo il puntatore dots e l'ultravioletto cerchiamo vedi anche col sale magari possiamo mettere un altro po' di sale sì allora porto il sale questa non serve io e anche dev ok dammi aspetta che potrò questo è per più eh sì ma noi non abbiamo paura di niente ma insomma parli per lei che io muro davanti all'inizio allora questo lo metto qua io che pensavo fosse il buraco quello non serve a niente così oh che c'è qua ecco è passato sul sale eccole ci sono ci sono oh perfetto bene bene allora uno bacche ci sono ci sono andiamo ce ne andiamo ce ne andiamo scappiamo scappiamo ok dai siamo una squadra fortissimi eh t'hai visto fortissimi allora allora ultravioletto dai che c'è rimasto? che cosa? ah la sanità il crucifisso niente possiamo anche non volete farlo? no ma questo ci sciotta che sta a fare che sta a fare vabbè io mi do eh chiudo avete messo tutto? yes ok via atto atto arrivederglielo cretino che mi ha fatto prendere un coccolone all'inizio poi c'è nel dots uscisse pure sti cavoli oh ecco che soddisfazione come back come back siamo già a due fantasmi di più vogliamo di più forza 891 punti ma ah l'osso non l'abbiamo trovato ma davvero ho sbloccato il lettore mf nuovo ragazzi ma quello costerà tipo 10.000 forse anche di più vediamo vediamo grazie a tutti